gentili telespettatori buona giornata le lusinghe di melonia giorgia le partita la telefonata e si dopo l'addio di amadeus che va al 9 a prendere 10 milioni di euro come contratto in quattro anni cioè due milioni e mezzo all'anno circa 200 mila euro al mese circa 7 mila euro al giorno per quattro anni senza sosta buon per lui ci mancherebbe altro che cosa farà fiorello è la domanda che si fanno in tanti perché per la rai la sua assenza sarebbe una beffa sarebbe un colpo duro da parare per i vertici di viale mazzini se alla presentazione dei prossimi palinsesti non ci fosse il nome di fiorello e fiorello che diventa indispensabile quando tutti cominciano ad andare via ad andare alla 7 al 9 dove evidentemente li pagano di più c'è anche che data rete 4 come la berlinguer dove ha avuto un aumento sostanzioso di entrate economiche di programmi televisivi adesso non vogliono che fiorello se ne vada un possibile divorzio di fuori fiorello dalla televisione di stato ma lui dice io sono libero il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all'ultima io non ho contratti a tempo indeterminato lui è libero sono dei contratti che possiamo definire a progetto ecco contratti a progetto ma il rai si lavora così ma non solo i conduttori anche tanti che lavorano lì lavorano a un programma e poi fine e poi si sperano in un altro programma per continuare a lavorare e quello di fiorello è così il mio contratto dice inizia la prima puntata di un programma e finisce all'ultima il 9 che lui chiama la 9 non è nei suoi piani dice lo ha ribadito per l'ennesima volta aveva rai 2 voglio ricordare che io e amadeus siamo due persone diverse siamo molto amici ma ognuno ha la propria vita io ho una moglie che si chiama susanna lui una moglie che si chiama giovanna abbiamo figli diversi io ho angelica e olivia lui ha giose io vivo a roma lui a milano lui va al 9 io no se amadeus cambia editore non significa che debba andarmene anch'io sul corriere della sera un retroscena parlava di una telefonata di giorgia meloni alla direttore generale della rai per chiedere che fiorello resti in azienda a qualsiasi costo e lui ha ironizzato fiorello dicendo a giorgia le è partita la telefonata non è che voleva chiamare davvero sapete quando schiacciate per sbaglio sul telefono e ti parte ti parte la telefonata ma è lusingato comunque per le parole di grande elogio spese nei suoi confronti ma che centro io convincetelo legatelo blindatelo coccolatelo è un bel messaggio all'ego ma tutto questo non regge dice lo stesso dice lo stesso fiorello perché dice io ho un contratto lo ripeto solo con quello il mio divano dal 10 maggio il giorno in cui va in onda l'ultima puntata di viva rai 2 chi vuole aggiunge sa dove trovarmi sul mio divano mi riposo per un lungo periodo vado in letargo così assicura fiorello che all'orizzonte non c'è nessun canale 4 più 5 nessun 3 per 3 nessuna radice quadrata di 81 perché 4 più 5 fa 9 3 per 3 fa 9 la radice quadrata di 81 fa 9 dice non c'è niente in ballo sono voci attendibilissime le mie certo che quando tu fai come si può dire quando tu vieni etichettato come il conduttore tipo alla bonolis come possiamo definirli conduttori alla bonolis quelli simpatici quelli che ti fanno sorridere ridere a volte guardate che è un po' una condanna perché tu sei sei etichettato come conduttore di quel tipo lì e devi fare battute sempre devi sempre fare la battuta sempre dire la cosa un po' così vedo che anche fiorello ogni volta che viene intervistato gli chiedono qualcosa deve sempre fare una battuta dietro l'altra non è 4 più 5 non è 3 per 3 non è radice di 81 diventa poi quasi una cosa pesante ecco perché devi fare sempre ridere anche nelle interviste anche quando parli seriamente ormai devi devi dire la tua perché sei stato etichettato come il simpatico e quindi il simpatico deve essere sempre simpatico va bene comunque questa è una mia divagazione sul tempo quanto durerà adesso il letargo di cui parla fiorello fiorello infatti ha fatto intendere che non ha intenzione di replicare per il tenso anno il suo show mattutino che è diventato un caso di studio infatti è riuscito a esportare i codici televisivi del varietà di prima serata in uno spazio che non era mai stato esplorato in quel senso portando rai 2 da un microscopico 1 per cento di scerra un impensabile 20 per cento in quell'orario probabilmente in quell'orario la gente o si sta preparando sta uscendo sta facendo colazione una volta si sentiva la radio accendi la radio oggi dice accendi la televisione ecco questo deve essere la spiegazione per questo sarebbe un colpo duro per la rai se non ci fosse il suo nome nella prossima stagione e al danno dicono ci si potrebbe aggiungere anche la beffa non è da escludere che tra qualche mese fiorello faccia visita ad amadeus in rai avrebbero dovuto fare uno show in prima serata in autunno in nome di un'amicizia che che ovviamente regge dai tempi di radio dj perché amadeus fiorello gerry scotti giovanotti e poi c'erano tanti altri che erano conduttori fabio volo platinet erano tutti conduttori di radio dj negli anni 90 quando radio dj era un cult oggi questi personaggi sono tutti praticamente quasi tutti fuori dalla radio qualcuno qualcuno è rimasto in radio però i gloriosi anni 90 di radio dj credo che non si potranno mai più ripetere perché era un concentrato di personaggi che poi hanno fatto tutti praticamente strada sicuramente ne ho dimenticati tanti altri che hanno fatto strada anche loro e cecchetto e poi c'erano tanti altri che adesso non mi viene non mi vengono tutti in mente grazie a tutti e arrivederci a presto